Benvenuti in questo video dove condivideremo con voi 5 perle di saggezza per aiutarvi a vivere una vita più significativa e gratificante. Queste parole di saggezza sono state raccolte da grandi pensatori di tutti i tempi e ci aiuteranno a riflettere sui nostri valori, i nostri obiettivi e come raggiungerli. Siamo entusiasti di condividere questi insegnamenti preziosi con voi e speriamo che vi aiuteranno a vivere una vita più felice e soddisfacente. Vi invitiamo a seguire il nostro canale perché ogni giorno condivideremo altre 5 perle di saggezza per aiutarvi ad arricchire la vostra vita. 6. Evitare di superare i propri superiori. Le vittorie generano odio. La vittoria sui propri superiori è stupida o fatale. La preminenza è detestata soprattutto da chi occupa una posizione elevata. Attenzione possono coprire i vantaggi. Per esempio, un buon fisico può essere nascosto sotto un abiti larghi. I superiori vogliono essere superiori nella più alta delle qualità. Permetteranno a qualcuno di aiutarli, ma non ha chi li supera. Quando date loro un consiglio, fate in modo che sembri più un promemoria di qualcosa che hanno dimenticato, piuttosto che un dimenticati qualcosa che non conoscono. Le stelle ci insegnano la lezione. Anche se sono belli e luminosi, non possono competere con il sole. 7. Non avere passioni. La massima qualità della mente. Non c'è controllo più grande che avere il controllo su se stessi, sui propri impulsi. Questo è il trionfo della volontà. Non lasciate che le passioni controllino il vostro carattere. Non avere passioni è l'unico modo per evitare i problemi e la via più breve per vivere meglio. La via più breve per una vita migliore. 8. Evita i difetti propri del tuo paese. Non c'è nazione, anche tra le più civilizzate, i cui abitanti non abbiano qualche difetto peculiare che è da loro proprio, che viene evidenziato da altre nazioni per essere criticato o ridicolizzato. Siate saggi correggendo in voi stessi tali difetti. Si acquisisce un grande credito essendo unici tra i propri tra i vostri compatrioti, perché ciò che meno ci si aspetta è più apprezzato. Fate attenzione anche a eliminare i difetti di famiglia, di mestiere o di età. 9. Fortuna e fama. La prima è per questa vita, la seconda per la prossima. La fortuna è desiderata e talvolta alimentata, ma la fama si guadagna. Il desiderio della fama ha origine dalla virtù. La fama è la sorella dei giganti, si spinge sempre agli estremi che si tratti di mostri orrendi o di prodigi splendenti. 10. Relazionatevi con chi può insegnarvi qualcosa. Che l'amicizia sia una scuola di conoscenza e che la cultura sia insegnata nella conversazione. Lasciate che i vostri amici siano i vostri insegnanti e mescolate i piaceri della conversazione con i vantaggi dell'istruzione. Siamo sempre attratti dagli altri dal nostro interesse personale, ma in questo caso si tratta di un interesse nobile. Siamo giunti alla fine di questo video e speriamo che le 5 perle di saggezza condivise vi abbiano ispirato e aiutato a riflettere sui vostri valori e obiettivi. Vi invitiamo a mettere in pratica questi insegnamenti nella vostra vita quotidiana e a condividere i vostri pensieri con noi. Vi ricordiamo di seguire il nostro canale per non perdere altre preziose perle di saggezza che condivideremo ogni giorno. Vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per ricevere ulteriori ispirazioni e consigli per migliorare la vostra vita.